Ciao a tutti! La cosa fantastica è che ho scoperto che ad agosto c'è un'iniziativa benetica di Benefit alla quale potete contribuire anche voi perché verranno donati 5 euro per ogni trattamento fatto qui al Grow Bar. Quindi poi vi lascio tutti i dettagli nelle prossime storie. Bold is Beautiful è il programma di beneficianza di Benefit a sostegno delle donne. Per tutto il mese di agosto Benefit dona 5 euro per ogni epilazione e sopracciglia effettuata al Grow Bar. Le associazioni si occuperanno di progetti concreti a supporto di donne e bambine. Ovviamente trovate i Grow Bar di Benefit negli store di Sephora. Eccomi come sempre Idola, una garanzia. Ho tolto l'extension, sono soddisfatto e ho fatto un trattamento magnifico e vi do anche una novità. Idola si trova a Ibiza. Quindi se vi trovate a Ibiza, passate a Idola. Ciao ragazzi, eccoci qui. Allora ragazzi, se questo video vi piace, mi raccomando sempre, cliccate mi piace e scrivete un commento sotto a questo video qua. Noi ci vediamo al prossimo video. Dacci un omangino è tutto. Ciao bella raga. Ciao. Ciao.